Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della Vedova Nera Challenge. Allora, come vedete siamo nella casa nuova di cui ho fatto lo speed build, ed è lo speed build numero 3 e mi avete veramente lasciato dei commenti super positivi e io vi ringrazio veramente tantissimo perché ci ha messo una vita a fare questa casa, ad arredare questa casa perché la struttura è rimasta pressoché la stessa. Insomma diciamo che dopo averci messo un sacco di impegno dispiace poi se le cose non piacciono, invece vi è piaciuta e quindi sono veramente contentissima. Ho fatto delle piccole modifiche come vi anticipavo perché ovviamente la casa che io ho messo in galleria era una casa per tutti diciamo, per una qualunque tipologia di famiglia, mentre a noi serve una cosa proprio un po' più specifica. Quindi ora aspettate che accendo le luci, accendi tutte le luci così vedete bene tutto. Allora partiamo dal piano terra, al piano terra non ho apportato modifiche, è come l'avete visto nello speed build, esattamente lo stesso. Al primo piano ho modificato questa stanza che come vedete ho assegnato alla piccola Emma e quando diventerà bebè alla piccola Alice, ho avuto un momento di nulla. Quindi questa sarà la loro stanza, ho deciso questa perché loro essendo piccole sono al primo piano, hanno meno scale da fare per arrivare giù. Ho pensato potesse essere una mossa intelligente. Qui potete vedere il ritratto di famiglia che ovviamente si è completato nel momento in cui li ho trasferiti. Di sopra invece qui dormono i gemelli. Di qua c'è Jessica, no, Nathan. No giusto è vero, Jessica l'ho messa nel letto giallo. Di qua c'è Jessica, di qua c'è Nathan e gli ho dato questa camera grande visto che sono gemelli. E qui, pensate che tiro su la parete, qui ho messo le foto che avevamo nella vecchia casa. Quindi le foto di Aurora da piccola, le gemelle da piccole e i gemelli da piccoli. Vorrei fare una foto anche di Emma seduta da qualche parte, nello stesso stile, vediamo se ci riesco. Le metto qua ma se no mi arrampico anche più di sopra, le sposto al momento le ho messe qui. E qui invece ho messo le foto dei bimbi in braccio. Mi manca quella con Emma, che infatti devo fare. Anche perché ad Emma mancano due giorni in questo episodio, non so se la vedremo passare di età, vediamo. E quindi qua ho messo i figli. Ho preferito metterle qua invece che nelle camere perché queste camere resteranno così. Quindi non le andrò a modificare ogni volta. Modificherò eventualmente i letti, letti piccoli per i bebè, letti grandi per i bambini, ma più di tanto non andrò a modificare. Quindi, la cosa fondamentale che non vi ho fatto vedere, mi stavo dimenticando, è la cripta. Dove avrò mai messo la cripta? La cripta la troviamo proprio qui. Nel giardino posteriore ho messo quest'albero qui, che al momento è spoglio, però magari con un po' più di fronde dovrebbe andarmi a coprire un po' l'ingresso. E questa cripta, aspettate che ci blocco la porta per tutti tranne Giorgia, è l'ingresso della cripta. Allora la cripta ci scendiamo con questi gradini e troviamo questa porta che appunto è bloccata al momento. Quindi noi scendiamo, troviamo la macchina per il tempo, l'ho ottenuta, l'ho comprata nuova perché questa stanza l'ho fatta proprio copia e incolla da quell'altra e dopo l'ho modificata. Questa l'ho comprata nuova e come vedete ho aggiunto anche un sacco di crepe, mi dava l'idea più di cripta, un sacco di crepe. Qui ho messo di nuovo una stanzina senza però tutte quelle finestre di prima, solo queste due, perché ci manca che qualcuno muoia di fame. Quindi ho cambiato il letto, ci ho messo il vate, il coso e il comodino, il coso in realtà era il comodino e le crepe. Di qua ho messo le foto dei mariti, vedete uno, due, tre, quattro, cinque e qua sotto metterò gli altri cinque, sempre scusatemi con delle crepe e di qua ho cambiato, aspettate, ok, ho cambiato i divani qua in mezzo e di qua ho messo appunto i mariti. Jacques, Bjorn, Dominic, aspettate, lui mi ha perso, scusatemi, il nome. Bjorn, Bjergsen, forse non l'ho mai rinominata comunque, si scrive così, vero? Bjergsen, sì. E Dominic, Maurizio Alberchini ed Eric Lewis e qui c'è uno, due, tre, quattro, cinque, il posto per le altre cinque e di qua su questa parete, uuuuh, no che figo, scusatemi, questo è il quadro che rappresenta lui, cioè quando io l'ho messo era lui, non era in versione lupo e quindi ho messo lui, lei e la cosa di famiglia, non lo so, mi dava l'idea di una cosa antica che stesse bene in una cripta e ve lo giuro lui non era così, era in versione normale, oddio che figo, scusate, sono contenta come una bambina e basta, da qua si rientra, quindi questa è la cripta che era la cosa più importante che mancava, allora, luci automatiche, tutte le luci, ora posso continuare a dirvi quello che vi stavo dicendo, essendo in un lotto che comunque il giardino non è grandissimo perché proprio finisce a raso, devo eliminare queste tombe che sono quelle che vi dicevo nel, nello speed build, sono di Vivian Lewis e Dennis Kim, ma onestamente io non so manco chi siano, quindi ciao, non le potevo eliminare in modalità costruisci e accendiamo anche il termo, cosa vi dicevo? Sì, che appunto non ho il posto per sposarmi qua e quindi ho sistemato un po' modificato una location che già esisteva nel gioco per sposarsi, che è il parco quello a San Maishuno, quello sulla destra se voi guardate dai quartieri alti, l'ho modificato e ci sposeremo lì, ora, lui è ridotto così poveretto, con sta bandana in testa, che non so perché onestamente, lei adesso la rimando a letto perché sono comunque le 5 del mattino ed era stanchissima, erano tutti esausti davvero e lui nel frattempo è andato a bersi, cos'è? Latte? Probabile, dal colore, no non lavori, lui non lavora, non ha una carriera, va bene, tanto con tutti i soldi che abbiamo guardate quanti ce ne sono avanzati, mamma mia, cioè per quanto io abbia cercato di usare cose costose e tante, perché sta casa è proprio grande, mannaggia, niente, non sono riuscita più di tanto a spendere, nonostante mi ci sia impegnata particolarmente. Allora, vieni a guardarti un film, ho voluto fare proprio quest'area qua in alto dedicata a cinema, no? Quindi anche con la macchinetta di popcorn, il tabellone degli scout dei ragazzi, il calcetto, tipo una zona giochi dove potersi divertire e svagare, diciamo che un po' mancava se vogliamo nella casa precedente. Allora, sono le 6.40 e i ragazzi vanno a scuola perché è venerdì. C'è qualcosa? Sì, ci sono questi, ok. Allora, svegliamoli e facciamoli venire a mangiare, che almeno riescano a fare colazione, insomma. Ovviamente, ancora tristi per la morte di Eric, ma se vi ricordate, ah, ecco una cosa che non ho aggiunto, bravissima, sono stati i vasini che gli aggiungo adesso, pareva di essermi dimenticata qualcosa, ma quasi quasi io lo aggiungerei nella stanza in cui abbiamo i bebè e poi magari lo tolgo e lo rimetto quando nascono altri bebè. Vieni a fare la pipì, che dopo ti faccio mangiare perché hai veramente un sacco di fame e dopo puoi tornare pure a dormire, non ha importanza. Adesso aspettiamo che tu faccia la pipì. Questi qua poveretti hanno i chilometri da marciarsi per andare fino giù, nel frattempo è ora di andare a scuola. Ah, vabbè, genio, lui si è preso la fetta di torta, cioè genio indiscusso. Vabbè, mettiamo via. E per Emma io volevo prendere questo qua che avevo visto che era singolo. Emma, eccola qua. Dove stava andando Emma? Boh, per campi probabilmente. Stava venendo giù a prendersi da mangiare secondo me. No, prima fai la pipì perché mi scoccia doverti lavare 1900 volte. E dopo mangi i maccheroni che ti ho dato, tanto dovrebbero reggere, sì, altre sette ore. Reggono benissimo. E lei intanto si sta riposando perché purtroppo al momento non riesco a farla dormire con Don perché non hanno ancora un livello tale per dormire insieme, almeno che non sia un bug. Prima mi dava questa problematica qua. Però Don, a te così onestamente non ti si può proprio vedere. E allora, cambietti, grazie. Bene, è ora di andare a scuola. Dovevi sbrigarti. In questo episodio, appunto, magari domani che è sabato, vorrei che Don e Giorgia si sposassero. Ecco, appunto, volevo... Allora, facciamo così. Don, occupatene tu. Vieni a coccolarla. Così intanto faccio mangiare lei. E prendi gli avanzi. Noi seguiamo Don, che va a coccolare la figlia di qualcun altro. Va bene. Comunque mi avete sgridato in tanti perché ho dato lo stesso nome dell'ex moglie di Erika, la bambina. Ma raga, vi giuro, non mi ricordavo proprio. Questa la leggiamo Alice, mentre l'altra era Alice. Vabbè, giusto. Tutti insieme appassionatamente. Beh, dopo, se non va a letto di sua spontanea volontà, potremmo farla leggere. Cioè, farle leggere un libro dalla mamma. Vediamo. Ma non sempre funziona quei letti così in angolo. Boh. Ho ancora servizio di... No. Chiama per un servizio. Allora, aspetta. Voglio la donna delle pulizie. Questo è il servizio a cui mi riferivo. Servizio di pulizie continuativo. Non ce la faccio a parlare. E... Dai, sono bambini che si comportano da bambini. Cerchiamo di... di essere gentili. Vieni a occuparti di lei un attimino. E... fai finta di niente. E poi proviamo a mettere di nuovo a letto Emma. Se riusciamo a leggerle qualcosa. Se riusciamo, perché... No, infatti. Purtroppo con i letti ad angolo così non funziona. Il letto deve essere staccato dal muro. Ora, capite perché l'ho messa a primo piano? Che già la vedo problematica così. Allora, chiediamo un consiglio. Lui, poverino, è triste perché il festival del raccolto non è andato come doveva andare, insomma. Però, donna, è questione di priorità. Ciao. E... Cos'è? Gli auricolari. Non voglio auricolari gratuiti. Io me ne faccio niente. Niente lì. Non mi mancano i soldi per comprarli. Spettegola. A quanto gli passa sta roba? Beh, vabbè, dai. Sta per finire. Ma non sono le bollette, vero? Cioè, sto qua tipo da sei ore. Se sono già le bollette mi sparo in vena. Perché in vena, boh, vabbè. Vedete, cioè, sì, viviamo insieme, però non siamo ancora super mega innamorati. Al momento è un interesse amoroso che dobbiamo andare ad approfondire prima di domani. Ecco. Fa giusto. Mi sembra giusto. Arrivo, la mamma arriva. Appena ha finito di parlare con donna, la mamma arriva. Guardate che bello, però, cioè... Dove sei, Don? Ah, giustamente a far la pipì. Giusto. E indovinate perché ho messo la sauna? Beh, vabbè, non è che ci voglia un genio per indovinarlo, ma... Perché, appunto, c'è anche la morte nella sauna. che ora, onestamente, non mi ricordo come si chiama. Ora ve lo dico, ho preso il foglietto con tutte le morti che vi dicevo. Deve essere per vapore. Quindi, probabilmente, forse stando troppo in sauna, devo informarmi su come funziona la morte per vapore. Però, appunto, un marito morirà anche così fra i vari... fra i vari metodi, ecco. E romantico... Bum, 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 bacia. Don... E battuta di abbordaggio. Profittiamone finché i ragazzi sono a scuola. Tutto molto yeah. Fatti avanti. Dove vai? Non so dove stai andando. Adesso guardo. No. Flirta. Dove stavi andando? Boh, volevo mettere un mobiletto anche qua, perché mi sembra un po' vuoto questo angolo. O qualcosa, una pianta al lato, non lo so. Devo vedere. Il mobiletto forse non ci sta il coso in cima. Flirta. No, lei volevo. No, lei volevo. Ah, è un sacco di bello di scarisma. Baccia diecisima. E poni una domanda spinta. Dove vai, Giorgia? Cioè, da qua a là, non è che faccia molta differenza, eh? E... Potremmo fare fichi fichi, no? Giusto per alzare un po' il livello della relazione. Grazie, tesoro. Ho saputo la tua amicizia con donna otaria, piuttosto in gamba. Eh, dicono tutti così. Guardate che figo figone in confronto a Jacques Villareal. Cioè, meglio dire, a parte che ci vuole poco. Però, insomma, non si può dire che Jacques, che cavolo dico, che donna non sia un bel pezzo di manzo. Frattempo i ragazzi sono tornati da scuola e sono ancora tristissimi. E allora potremo approfittare, anzi sfidiamo nostra sorella a lama che dorme. Beh, e direi che la relazione si è alzata parecchio. Allora, fermi tutti perché io adesso voglio, se mi conoscete già avete capito, chiedere di diventare la fidanzata in bagno. Cosa c'è di più romantico? Uh, è il compleanno che era piccola Alice, che bello! Allora, chiediamoglielo fra la doccia e il lavandino. Lui è evasivo, però non ce ne frega niente perché tanto non è che vivrai ancora a lungo, detta proprio in tutta onestà. Quindi vedi anche di fartela passare. e adesso le chiediamo di sposarci, in modo che domani... No, dove va? Dove vai? Ma cosa devi aggiungere alla bacheca? Ma cosa devi fare di più importante? spiegami, spiegamelo, ti prego, proponi le nozze. Hola! Questa è una cosa importante. Figuriamoci se questa non dice sì. Questa dice sì a chiunque. E allora tu prendi gli avanzi e noi andiamo a far passare di età la piccola Alice. Bene, così domani possiamo sposarci. Fantastico. Oh, carina, con i capelli castani. Allora Alice, la facciamo viziata, dai. Cambiamo un po'. Carina. Olivia, Ginevra, Sveva. Allora, aspettate che cancello la culla. Ok. E ora veniamo e andiamo a cambiare il look. Allora, lei è Alice. Le ho messo i capelli così perché comunque ha il papà nero quindi volevo un po' richiamare questa sua origine. Comunque, questi sono i suoi abiti quotidiani, formali, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. Torniamo a noi. Eccoci. Allora, cosa c'è che non va? Ok, lei ha un po' di fame. Non aspettate che vengo giù e guardo se per caso è avanzato qualcosa. Sì, due ne sono avanzati. Poi bisogna assolutamente cucinare qualcosa perché dopo non c'è più nulla. Ma tu smetti di mangiare sto rimasuglio di torta che onestamente mi fa anche un po' schifo l'idea? Allora, il secondo te lo vieni a mangiare tu. Dai, Giorgia, vieni a lavarti qua in fretta e furia perché voglio farti cucinare la cena. facciamo il ciri di verdure quando hai fatto tutto quello che devi fare. Lui si può occupare di tirare su i piatti visto che in questi al prossimo due giorni non verrà neanche la donna delle pulizie perché è sabato e domenica quindi direi che dovrebbe esserci arrivata anche la notifica prima quando l'abbiamo chiamata. Era proprio prima, 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 no, è venuto in realtà. La persona caricata arriverà veneride 10.41. Sì, era anche venuto però mi sa che noi abbiamo fatto casino dopo. Dico che ci telefona. No, non voglio entrare in nessun club. Non di certo in quello. Allora, lei è sempre triste no, per la morte di coso però ormai insomma fra poco è finita e voi gemelli fra quanto compite gli anni? Otto giorni. Devo assolutamente fare le foto con lei e la piccola Alice. Non mi ricorderò mai sto nome prima che Emma cresca perché ho un sacco di nomi in testa compresi i nomi della 100 Baby Challenge è un desio troppi nomi da ricordare. Dai, vieni a giocare con le bambole su, fai la brava. Comunque, fatemi sapere vi piace di più questa casa o la casa in cui vivevamo con Jacques? Fatemi sapere nei commentini. Sono due case molto diverse anche come tipologia di arredamento questo è un pelo secondo me più sul moderno quell'altra sì, era moderna anche quella sono diverse quindi no se la sta facendo addosso no piango, 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 piango vabbè non starei mica andando a fare il pisolino vabbè sei pigro tu? sì mi rispecchi un pochettino se vuoi proprio saperla tutta mi rivedo in te allora domani che tempo fa? ah benò nevica benò perché il posto dove ho creato dove ho sistemato l'arco nuziale che esisteva già in realtà è all'aperto cioè l'arco nuziale è all'aperto poi dove si mangia è al chiuso vabbè che per i due minuti in cui c'è la cerimonia secondo me possono anche resistere ma cosa fa? ma non hai fatto niente tutto il giorno ti metti anche a dormire? beh ormai possiamo anche farti reclamare questo letto ormai avete superato quell'ostacolo arc up perché gliel'ho messo via lei poveretta allora prendi gli avanzi no in più io volevo svegliare lei per fare la foto quindi se riuscivo poi a far venire qua lui e lei beh comunque Emma non è più stanchissima quindi se riuscivo a fargliela a tutte e due le bimbe sarebbe una grandissima cosa noi ci proviamo se avete notato ho ancora gli altri dove sono i fuochi d'artificio che avevo preso per coso per Eric Lewis coveretto penso che vi abbia fatto una delle fine fini peggiori fini in italiano plurale peggiori dell'universo io perché mi sto incasinando a fare le foto in questa posa mi chiedo riesci a venire qua con la bimba in braccio ok oh la sta mettendo giù che non sempre quando premo pausa mi va in pausa quindi ogni volta c'ho l'ansia da prestazione allora prendi in braccio tu vieni già qua no vai vai di là vai dai porca miseria no prendi in braccio scatta una foto sono pronta a sto giro eccola un po' in lacrime la bambina onestamente credo di averle fatte sì medie però intanto una ce l'abbiamo fatta andiamo a metterla di sopra così scelgo qual è venuta meglio sì beh scarsa scarsa ma don te si bonda un colpo come se dice non ne va bene una lei ancora la bambina in braccio sì e allora scatta poveretta guardate che faccia triste che ha allora allontaniamoci un peletto ok no vabbè mi piace più così allora l'ho fatta anche lentamente chissà che non fosse quello che avesse contribuito che bello mettere pausa e il gioco non va in pausa eh allora ho 10 6 4 1 1 beh c'è questa da 10 poi le sposto in modalità costruisci perché devo mettere le più vicine Aurora e la mamma quindi Emma e la mamma e adesso già che abbiamo anche quell'altra scricciola a portata di mano che è stanca però ce l'abbiamo a portata di mano ci facciamo la foto pure con lei nel frattempo lei le possiamo pure dire vai a dormire ciao grazie beh però gioca con le bambole prima dopo vai a dormire vai qui e poi scatta una foto dai ce l'abbiamo fatta con un po' di zoom indietro guardate che bella che è Georgia con questa espressione guardate che faccia che ha invece Alice vabbè ma se viene così la tengo così eh col caspio che la rifaccio mille volte ok ma Georgia è proprio bella cacchio in sta in sta espressione ne è venuta bene almeno una normale normale sette due due zero va bene teniamo quella da sette visto che a quanto pare con Don Lotario non possiamo pretendere diversamente beh e abbiamo una comunque con la bambina girata quindi direi che tutto sommato insomma e quindi abbiamo Alice e la mamma ok allora eliminiamo pure di fare altre foto la macchinetta la ridiamo a Georgia adesso ho fatto sì che fosse giorno per vederci meglio solo mi toccava accendere tutte le luci ok abbiamo cambiato anche le cornici e mi avevate anche chiesto di cambiare il look a Georgia adesso che me lo sono ricordata e adesso mandiamo a letto intanto lei e quasi quasi glielo cambio perché voglio sistemare anche il look di di Don purtroppo me lo sono ricordata adesso e non prima quindi sistemiamoglielo allora vi mostro il nuovo look di Georgia non le ho cambiato i capelli perché secondo me i capelli sono uno dei suoi tratti distintivi allora questo è il suo nuovo look quotidiano ho cambiato anche l'abito da sposa e la pettinatura da sposa quelli sportivi li ho lasciati uguali anche quelli da notte ho cambiato quelli da festa costume da bagno è uguale ho cambiato quelli per il caldo e quelli per il freddo sono uguali invece ho dato una sistemata anche ad on cioè gli ho lasciato gli abiti quotidiani sistemato un po' gli abiti formali sportivi gli ho tolto la bandana e gli occhiali da notte un bel vedere così almeno un pochettino me lo voglio vedere da festa così costume da bagno così estate così ma tanto l'estate lui non la vede e per l'inverno invece l'ho messo così quindi possiamo tornare a noi ok ci siamo ragazzi ci siamo ci siamo possiamo mandare Giorgia che non so perché non ha letto reclamato ha letto Don uguale tanto adesso non ci sono più problemi e lei la facciamo giocare ancora un pochettino fra poco avrà anche più fame ma poveretta era proprio distrutta sua sorella invece aveva proprio bisogno di dormire i bimbi sono già a letto però gli scappa pure la pipì cioè non capisco perché vadano a letto se orca se gli scappa la pipì e allora adesso io li sveglio e li mando a fare la pipì in modo che bene o male insomma siano a posto riescono a dormire insieme si allora non era un bug era semplicemente che la loro relazione non era un punto tale dal permettere di dormire insieme meglio così va non mi mancano altri bug no? bene adesso anche lui va teniamo d'occhio lei sì che lo sta andando a svegliare però molto bene che hai fatto le scale così almeno mangi qualcosa del chili che ha fatto la mamma avresti bisogno anche di un bagno tu vabbè domani ci pensiamo prima di andare a sposarci ole va che bella che sei sul nuovo divano vedi di sporcarmelo mannaggia al mondo aspettiamo che mangi siccome Giorgia sta bene io la sveglierei e le farei il bagno non appena lei ha finito potremmo farglielo già nel bagno di sopra nella vasca da bagno che c'è qua nel bagno della sauna diciamo tanto sta in piedi là anzi potresti venire qua intanto sto piatto volevo trascinarlo io nel limondizio ok ce l'abbiamo fatta ok e adesso facciamo un bagno con la schiuma a Emma e comunque devo farti anche la foto dove sei seduta da qualche parte troppe foto da fare ma vedi che mi interessa di più quella con la mamma le altre era perché erano carini seduti oh sta cominciando a nevicare ragazzi e noi abbiamo l'arco nuziale all'aperto ma no non l'hai lavata guarda è onta no perché bisogna reagire alla prima neve no non possiamo lavare nostra figlia bisogna prima reagire alla prima neve dai la terza è quella buona dicono sarà bello puzzare Emma vedi tu vedi tu oh là ce la stiamo facendo eh con la fiacchetta come si suol dire anche perché adesso sei stanchissima dopo di che vai a dormire quando hai finito qui oh là e qui abbiamo già il bucato da fare non tantissimo però facciamo partire una lavatrice che male non fa allora noi possiamo far fare la pipì alla nostra Georgia e rimandarla a letto visto che poveretta l'abbiamo svegliata prima del tempo e con te prendiamo gli avanzi invece vorrete vedere un bel figo del genere che ci cammina per casa abbiamo sempre avuto dei figli che erano dei roiti ambulanti dei figli che cosa dico dei figli dei mariti che erano dei roiti ambulanti forse su cinque si salvava Dominic ed Eric gli altri bene o male non erano un bel vedere non so più parlare ragazzi ormai i mariti e figli hanno lo stesso significato oh signore è anche una festa la parlata da pirata assurdo allora volevo possiamo programmare l'evento così decidiamo anche a che ora farlo allora nozze che figo impossibile pianificare un evento obiettivi durante una festività ah sì è vero perché la banda qua è occupata ma a noi non interessa gli spos li abbiamo selezionati selezioniamo i figli come invitati manca Aurora ok e poi selezioniamo tutti gli altri amici figli dei nostri no lui no figli dei nostri ex e quant'altro direi che va bene no non ci interessa niente beh il mixologo sì perché c'è il bar quindi ne assumiamo uno a caso e andiamo e non so il nome del parco onestamente pizza gaza aspettate forse ci sono altri posti più sotto generico parco del centro sì eccolo qua scegliamo l'ora potremo farlo alle 16 così riusciamo a sistemare tutti i figli ora delle 16 sì dai benissimo e l'abbiamo organizzato a posto così riusciamo a fare tutto con calma chi è? Michele Fontana anziano quello là morirà di freddo secondo me ok i ragazzi sono svegli buongiorno stanno andando chi a mangiare chi a giocare insomma diciamo che hanno loro da fare ecco sa che magari le bimbe si riposino bene per quell'orario lì questa bacheca ha un'importanza proprio fondamentale proprio vabbè e allora tu ripuliscimi visto che la donna delle pulizie giustamente è sabato e non viene allora ti chiedo anche il favore don visto che non fai una mazzafava dalla mattina alla sera di veniremi a dare una mano e di spostarmi il bucato all'asciugatrice grazie sapete cosa non mi ricordo se ho messo vediamo sì c'è quello dell'incendio ok e asciuga il bucato non mi ricordavo più allora prima di far partire un potenziale incendio reduci nello scorso episodio in cui abbiamo fatto incendi anche per tutto il vicinato era meglio controllare ok allora lei beh proviamo a cucinare della buona sbobba dobbiamo anche cucinarci la torta più tardi facciamo il salmone in crosta di erbe alle 8 della mattina no frittata di spinaci così ci facciamo colazione beh giustamente si passa dal videogame al piano di sotto al computer al piano di sopra mi sembra una cosa intelligente guardate i vetri si sono tutti condensati evidentemente fuori proprio freddo freddo allora questo lo metto a lavare io lui giustamente cosa guarda vizio turbinoso bello bellissimo ma lui sta guardando la stessa cosa si stanno guardando lo stesso film in due piani diversi assurdo cos'è libera del sale marino contempla le onde tuffo veloce vabbè fantastico e anche lei comincia a avere fame lo ha quasi quasi visto che la mamma ha preparato una buona colazione potremmo andare a usufruirne lei però non sa fare le scale no e mi sa che non ho neanche messo un ipad o qualcosa del genere vabbè e vorrà dire che la colazione gliela porteremo su noi appena jessica va a prenderla in modo che non ci siano problemi tanto loro due si danno bacini bacetti certo che più una casa ha un piano più ti viene tipo mal di mare dopo un po' ma no poverina perdita in famiglia per aver perso un genitore è difficile accettare la scomparsa di chi ci è più caro Alice può trovare un po' di consolazione nel lutto davanti a una lapide o a un'urna no è proprietà privata avete visto che prestante che comunque il nostro amico Don cioè sette giorni diventa vecchio scherzi a parte più vecchio di noi insomma che il tempo passi anche per gli altri non solo per me e anche lei poi deve essere lavata eh perché lei non ha la doccia veloce con il linguaggio dei pirati dai giustamente mangiamo insieme dopo di che a lei facciamo fare la pipì getta l'ancora anzi scusate le facciamo gettare l'ancora bisogna utilizzare un linguaggio appropriato redazza il ponte io ho sempre il terrore siano bollette cioè vivo proprio nell'ansia ok che soldi ne abbiamo quindi non sono no se lo sto facendo ad ossa non sono quelli che ci mancano dicevo e allora dopo appena finiamo di mangiare la lavo subito in modo che dopo quando andiamo al matrimonio almeno non puzza ah che bravo non si era asciugato bene il buccato e me lo rimette a asciugare lui che bravo c'è proprio un figlio bravo e allora facciamo il bagno con la schiuma d'elis sto giro no mi ha perso l'azione c'è un bagno con la schiuma d'elis mi ha detto anche di no cioè fra pannolino puzzolente bebè disobbediente abbiamo fatto pure una rima involontaria è veramente un tutt'uno ok allora lei è a posto lei anche lei la stiamo sistemando adesso e allora la cosa che puoi fare una volta che hai finito con lei è quella di venire a fare la torta per le nozze pure lui sta bene perché ridendo e scherzando è già l'una fra poco dobbiamo andare a sposarci quindi direi che ah gli scout mannaggia cioè ciccio con tutti i bagni che ci sono poi redazza il ponte niente mi ha perso pure questa cos'è la casa è troppo grande che si dimentica quello che deve fare dall'oggi al domani anzi dall'ora fra tre secondi probabile o forse semplicemente la nostra povera Georgia sta invecchiando e e tipo poveretta non capisce più una mazzafava può essere anche questo io non escludo nulla a priori no no non andare vuoi davvero allora al momento Jessica sta facendo volontariato il suo supervisore potrebbe non gradire che lo faccia sì è anche lui vuoi davvero che lo faccia ragazzi mi sposo capita una volta nella vita le ultime parole famose sì ma adesso che rimanga sta roba che mi sbrilluccica fino all'eternità però no eh vogliamo infornare sta torta sì oh signore metterò le mani su uno strumento ogni volta che ne avrò l'occasione urlerà spesso e alzerà al massimo il volume di tutte le radio allora radio non ce ne sono in questa casa se Dio vuole benissimo dove me la metti? qua ok aggiungi delle decorazioni nuziali e mettiamocela nell'inventario facciamo le ultimissime cose perché proprio siamo agli sgoccioli e adesso praticamente ce ne andiamo ok iniziamo ok siamo qui nel parco di San Maishuno l'interno io l'ho sistemato un po' così nel senso qui ho messo tipo il tavolo degli sposi che poi non si siederanno mai gli sposi ma ci piace illuderci una tavolata grande qui ho messo un tavolino piccolo in cui proprio ora metto la torta nuziale aspettate che la giro ok e qui abbiamo già assunto il mixologo che verrà a mixologare e qui più o meno è rimasto tutto lo stesso devo aver cambiato queste piastrelle qua ma insomma i bagni e il piano di sopra non mi ci sono persa più di tanto non mi interessava perdermici e qui invece c'erano delle panchine io invece ho l'ho chiuso con dei muri l'ho leggermente allargato e ci ho messo la pista da ballo solo la pista da ballo e quindi qua chiameremo un dj e noi balleremo qua dentro non lo so mi piaceva l'idea di avere un luogo in cui ballare separato allora lui devo dire che mi piace molto con questo abito quindi quasi quasi io glielo lascio quello di default e ora creiamo un gruppo solito beh il marito lo comando io quindi al momento ci sono loro volevo fare abbastanza in fretta perché essendo all'aperto cioè uno rischia di ghiacciarsi veramente niente allora che carini che si danno già i baciini allora c'è anche lui allora intanto lo aggiungiamo al gruppo è arrivata pure Ginevra e lo aggiungiamo al gruppo no impossibile avere un gruppo con più di 8 sim ok niente e allora leviamo magari beh Sveva c'è nel gruppo leviamo lui e rimuove dal gruppo e aggiungiamo lei aggiunge al gruppo e allora adesso prima di ibernarci le palle diciamo andiamo a sposarci anche perché appunto è freddo qua è rimasto tutto uguale fuori non ho modificato proprio niente e godiamoci il matrimonio un bel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Potremmo fare quest'angolino qua dedicato al cibo, tanto che ce ne facciamo di un divano. E li troviamo qua. Eccolo qua. Purtroppo rosso e nero e non ci sono altri colori. No, anzi, questa mi piace di più. Molto più bella. Ecco, questo bianco. Se no, ancora più bello forse, più che della cascata che mi mollano le fragole in giro, mettere la torta là in cima. Ma sì, mi piace di più così, ragazzi. Allora, serviamo tutto e veniamo qua tutti insieme. Così almeno siamo al coperto, perché insomma fuori è prevista anche una giornata piuttosto fredda. Quindi, direi che possiamo mangiare qualcosa. Prendiamo una porzione tutti insieme. Chissà che magari facciamo gruppo e riusciamo a chiacchierare un pochettino. Prendi una porzione. Oh, anche le bimbe che hanno famissima. Una più di un'altra, ma... Un'altra cosa che non viene mai messa nei luoghi pubblici, diciamo, è il vasino. Allora io però la metterei, perché io sono una bella persona. Stavo pensando alle mie bambine. Scusate per queste continue interruzioni, ma preferisco, tipo, piuttosto del cestino, che che cacchio me ne frega di un cestino nel bagno, voglio dire. Usassero davvero salviette, poi. Mettiamo un vasino nel bagno degli uomini e un vasino nel bagno delle donne. In modo che se i nostri bebè scappano la pipì, almeno hanno il bagno dove poterla fare, insomma. E perché andare a mangiare fuori che è freddo? Vabbè. E comincia a nevicare. Ma no, dai. Perché? Potevi sederti qua? Voglio sapere. Oddio. Lei scappa la pipì, ma non la sa fare? Allora, insegniamo a usare il vasino ad Alice, ma la piazziamo solo in cima. Non stiamo, non le stiamo dietro. Ah, bellissimo, un abbraccio, un abbraccio col nulla. Lei è sveva, cioè, vedete un po'. Te ne dimentichi già dei tuoi stessi figli, eh. Cioè, ok che è viziata, ma tu fai quello che dico io. E dobbiamo farci la foto con Don. Adesso. La sediamo sul vasino. E la andiamo a fare. La foto, intendo. Ok. Allora. Scatta una foto con... Don Lotario. Ah, è andato a ballare lui. Giustamente. Che bello, abbiamo un DJ fantasma. Fantastico. Ok. E... Sì, lo zoom è già... Già a posto. Facciamo le solite cinque. Vedete, così almeno non c'è casino nella stessa stanza. Chi vuole ballare, balla. Chi non vuole ballare, non balla. E diciamo che teniamo la prima, che è straordinaria. E adesso facciamo già che ce l'abbiamo portata di mano, pure la foto a Don Lotario da solo. Da mettere sulla tomba. Porca. Riusciamo a pigliarlo con... Bah, guardate gli occhi. È un occhio diverso dall'altro. Cioè, è un occhio più grande dell'altro. Shamstar. Rifacciamo. E... Dov'è? Qua sotto. Scatta una foto di... Eccolo qua, il DJ. La riproviamo. Adesso se ne è anche andato, quindi... Forse riusciamo a beccarlo con un po' meno di... Un po' meno casino. Ah, beh, e chi è che non vuole fare la foto? Sì, bellissimo. Vabbè, vedi tu. Fate voi, insomma. Vieni qua. Scatta una foto di... Ce la facciamo? Don Lotario. Don Lotario, dove vai? Signore, questo veramente va ovunque. Vabbè, evidentemente ti piace fare queste facce orribili. E vorrà dire che nella tua lapide avrai questa faccia orribile. C'è problema. It's your loss, not mine. Ci perdi tu, non ci perdo io. 13, 11, 12, 12, 12, 8. Allora, fermi. Teniamo fuori quella che vogliamo tenere e buttiamo via le altre, così facciamo prima. E la rimettiamo nell'inventario. Eccola qua, a posto. Direi che abbiamo guadagnato un sacco di tempo. E ora... Veniamo giù a tagliare la torta. Taglia la torta nuziale. Tipo che lei viene da sola a tagliarla? Beh, sì, a quanto pare. Però lui è di sopra perché è... Sì, però tu e Betona c'è un sacco di roba da mangiare qua, eh. Vieni a prenderne una porzione. Hai fame? Vieni a mangiare. Lei se l'hai fatta addosso perché mi sembra sempre una cosa buona e giusta. E allora diciamo dall'otario di cambiarle il pannolino. Se ci riusciamo. Oh, mamma mia, lei ha bisogno anche di una doccia. C'è il bagno con la doccia. C'è il bagno con la vasca. Cioè, non voglio che la sposa puzzi, detta tutta onestà, eh. Quanto manca alla fine del matrimonio? Tre ore. Facciamo un bagno rapido, poi ci rivestiamo. Chi è che non fa il bagno al proprio matrimonio? Bene, ne ha cambiato il pannolino. Poi sicuramente dovremmo lavarla, ma almeno non è una bomba a mano per tutti quanti. E dopo tu ti metti, ovviamente, di nuovo il tuo abito da sposa. E raggiungi gli altri e andiamo a ballare. Basta, il DJ ha finito. E assumi di nuovo un DJ di grido? Tanto soldi ne abbiamo, non è che ci manchino. Lui intanto continua a ballare, caro. Vabbè, tu vieni qua intanto. Oh, là, si è decisa a mangiare, lei. Saggia decisione. Volevo farli ballare, ma... Cosa fai, no? Non sta a accendere il camino. Poi prende fuoco tutto. Adesso io ho il terrore, ve lo giuro. Non so chi sia questo. Ride, ma non so chi sia. Oh, là, è tornato il DJ. Balliamo insieme. Eccola qui, Aurora! Sei venuta, allora? Vieni anche tu a ballare, Don. Piangi, poverina. Fai una pennichella. No, ma perché vuole divertirsi, ma non può ballare. E vabbè, il matrimonio è comunque quasi finito. Ma è carina si dè della stanzetta solo per ballare. Mi piace. Esterna. Mi piace, mi piace. Un altro fantasma comunque, eh. E siamo a sesto matrimonio comunque, eh. E gemelle. Aurora. Ora, devo già cominciare a pensare alla casa dei futuri gemelli, visto che fra otto giorni compiono gli anni. Oh, signore, che succede? Perché tutti guardano mia figlia? Vabbè, dai, ragazzi. Vedo che tutti stanno morendo di sonno. Insomma, è tardi, quindi direi che possiamo anche andare a casa. Andiamo tutti a casa. Ok, ci siamo. Allora, lei, poveretta, se la sta facendo letteralmente addosso. Ora, andiamo in pausa un attimo. Oh, che brutto essere al terzo piano. Vieni sempre mandata in su. Oh, abbiamo il figlio pigro, sì. Ok, ora, lei invece, qualcuno mi ha fatto il disastro, comunque lei deve fare la pipì, poi a nanna. Lei non so onestamente se sappia fare le scale. No, metti Alice a letto, ok, ce l'ha già lui in braccio. Avete visto che non ho toccato niente per non rovinare questo momento così felice. Giorgia è a dormire, ma adesso gli faccio fare una doccia veloce a lui. Oh, che carino, l'ha dato anche il bacino. E lei deve fare la pipì. E la metto incinta, insomma, ecco. Cerca di avere un figlio con donne. Guardate come ridacchia. Oh, è arrivato anche l'inverno. Vediamo se lei è rimasta incinta. Fermi tutti, che stiamo già sforando nell'episodio prossimo. In realtà siamo già nell'episodio prossimo, infatti ripartiremo praticamente da qua. No, non è incinta! No! No, io la voglio far restare incinta adesso. Rifatte, rifatte, rifatte. E allora, finché loro procreano, almeno ci provano, sintonizzatevi su Instagram, appena poco dopo è uscito questo episodio, perché vi metterò il sondaggio su come dobbiamo uccidere donne. Come al solito, voi scegliete fra le due opzioni e quella che avrà maggiori voti vincerà, sperando sto giro di riuscire a rientrare in tempo per salvarmi l'immagine. Yes! Siamo incinte! Io vi interrompo con i coriandoli qua. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!